Per partire un po' dall'inizio, qualche giorno fa, il governatore della Banca d'Italia, nelle sue considerazioni finanze Se sono moneta o strumenti, noi inevitabilmente finiamo nella teoria tradizionale, parlo soprattutto per i giovani E insieme è proprio questa, ma i bitcoin, gli stablecoin, sono Difendervi dalla modellazione che il sistema vi offre E la moneta ha E hanno tutti coloro che sono collegati, io sono Marina Lorghi, sono professore di Nara Sintenza a Roma Il vero problema è la contabilità decentrata, e nell'ambito della contabilità decentrata c'è la contabilità Non può essere tecnologicamente neutrale, se ho avuto un minimo di successo a spiegarvi che il problema consiste nelle diverse Io vengo da studi di logica formale Mario 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 Grazie a tutti.